La Salerno del Calcio riparte da Lotito e Mezzaroma, avvenuta la posa della prima pietra, sulla quale si edificherà il calcio nel capologo campano, dopo che la Salernitana è stata estromessa dai campionati professionistici. Nello storico Salone dei Marmi di Palazzo di Città, dove si tenne il primo Consiglio dei Ministri di quella che sarebbe diventata l'Italia Repubblicana, il sindaco Vincenzo De Luca ha presentato Marco Mezzaroma e Claudio Lotito, che saranno chiamati a rifondare il calcio cittadino. La nuova squadra si chiamerà Salerno Calcio e avrà i colori sociali come lo stemma della città. La prima maglia sarà giallo, blu e granata, con lo stemma sul petto di San Matteo. A dominare la scena ci ha pensato Lotito, che ha parlato delle ambizioni e delle aspirazioni della nuova squadra calcistica, pur tenendo i piedi ben saldi a terra. La nuova società, che ancora deve costituirsi, si propone un programma quinquennale per tornare nel calcio professionistico. L'allenatore sarà Carlo Perrone, tecnico che ha il know-how necessario per poter condurre la squadra in questa categoria. Al termine dell'incontro c'è stato per Lotito e Mezzaroma il primo confronto con i tifosi all'ingresso di Palazzo di Città. Si sono radunati oltre 200 supporters che hanno atteso i nuovi vertici societari. A Lotito è stata regalata una sciarpa granata e gli è stato chiesto di acquistare il simbolo della Salernitana, l'ippocampo di proprietà dell'ultimo presidente Antonio Lombardi. Grazie.